Buongiorno e ben ritrovati al videomessaggio del Sindaco. Alcune notizie abbastanza importanti, sarò breve. Vi volevo comunicare che martedì 10 dicembre il nostro Assessore d'ecologia Luigi Passalacqua si è recato a Milano alla sede del suo invito della Lega Ambiente per ritirare un premio abbastanza simbolico, perché non c'è un grande valore naturalmente, però è molto importante. Siamo stati uno dei comuni d'Italia più ricicloni, più virtuosi per quanto riguarda la separazione, quindi lo smaltimento dei nostri rifiuti. Abbiamo superato la percentuale del 75%, quindi è un dato molto importante e l'obiettivo per il 2027 sarebbe quello di arrivare a superare l'80% di materiale recuperato dai nostri rifiuti. Quindi significa che i nostri cittadini stanno separando molto bene, stanno facendo la differenziata e questo naturalmente oltre ad essere un punto a favore per il nostro ambiente e anche un punto a favore anche alle nostre tasche, perché significa naturalmente dover spendere meno soldi nello smaltimento dei rifiuti. Anche i rifiuti, adesso non sto lì, non ce l'hanno tutti i dati, però abbiamo recuperato tanta carta, tanto legno, tanta plastica, quindi stiamo veramente sulla strada giusta e dobbiamo continuare e migliorare continuamente in questo senso, cercare di recuperare il più possibile, differenziare il più possibile per evitare di avere dei costi di smaltimento onerosi e naturalmente salvando anche l'ambiente. È un obiettivo molto importante, quindi è giusto che si faccia conoscenza a tutti i cittadini. C'è legato anche a questo filmato il diploma che ci è stato dato come comune riciclone. Dall'altra parte però devo segnalarvi la scorrettezza di alcuni cittadini, perché naturalmente abbandonano oppure conferiscono male. Come ho detto nel precedente comunicato abbiamo adesso a disposizione un ispettore ambientale, un ispettore ambientale di Amaga che insieme ai nostri vigili, perché chiaramente devono andare insieme, stanno facendo i controlli al tappeto. Per quanto riguarda il conferimento non idoneo, ho detto l'altra volta i cassonetti devono essere ben chiusi, spingete dentro il più possibile, però devono essere chiusi, non devono contenere dei sacchetti sopra il cassonetto. Inoltre ci sono degli abbandoni. Per quanto riguarda gli abbandoni magari qualcuno pensa di poterla fare franca e magari alcuni lo fanno. Però attenzione perché stiamo naturalmente video sorvegliando, ci sono i cartelli in tutto il paese se avete notato e soprattutto in alcuni casi si va anche ad aprire il contenitore dove è possibile per vedere se ci sono tracce, e le abbiamo trovate, che possono portarci all'autore dell'abbandono. Sono stati elevati a tutt'oggi 43 verbali, 43 verbali che non sono ancora stati tutti consegnati, sono in via di consegna, però questo sta a significare che l'amministrazione non è passiva, perché se è pur vero che il servizio viene affidato ad Amaga, insieme ad Amaga stiamo collaborando con i nostri vigili e con l'ispettore ambientale di Amaga a cercare di attenuare, per non arrivare naturalmente all'obiettivo di eliminare questo brutto fenomeno che alcuni pensano di essere più furbi degli altri, ma non è così. Stiamo lavorando in questo senso, questo è importante ed è giusto che la gente lo sappia, lo sappia chi sta facendo il conferimento corretto, perché è un'offesa anche per chi fa il conferimento corretto, questa scorrettezza nell'abbandono dei rifiuti. Quindi ci stiamo lavorando, speriamo di non vedere più in giro abbandoni o conferimenti sbagliati, mi raccomando fate il possibile per aiutarci ad aiutarvi. Un'altra notizia importante è che per il 21 di dicembre c'è uno sponsor che ci pagherà il pranzo per gli anziani. Il 21 di dicembre alle ore 12 presso la mensa del presso scolastico di Via Danegri ci sarà il pranzo di Natale alle ore 12. Quindi io invito gli oltre 65 anni che non l'hanno ancora fatto di dare la propria adesione. È gratuito, come ho detto prima, c'è uno sponsor, quindi è già stata pubblicizzata la cosa, bisogna fare una telefonata o recarsi alla biblioteca comunale, ci sono un giro dei volantini, comunque ripeto negli orari di apertura, oppure telefonare allo 02 9 seguito da 6 0 e poi 1. Quindi 9 6 0 0 2 9 6 0 1. Ecco, potete telefonare alla nostra biblioteca e dare la vostra adesione oppure le recave in biblioteca durante le ore d'apertura perché ci serve il vostro nome e la data di nascita. Dovete darcela, anche se non è bello chiedere la data di nascita alle signore, ma dobbiamo chiederla per una questione proprio di correttezza, di organizzazione. Quindi vi invito di nuovo a farlo, al di là che sia gratuito, non è quello, è un momento di incontro tra cittadini di Motta, naturalmente saranno presenti anche gli amministratori tutti e quindi l'amministrazione comunale sarà presente insieme a voi e naturalmente io mi auguro che si possa raggiungere un bel numero. Avrete modo anche di visitare la nostra rifezione scolastica, la mensa dei nostri ragazzi, delle scuole e quindi i vari nonni sanno che i nipotini vengono a scuola e possono naturalmente pranzare nel nostro plesso scolastico, quindi si renderanno conto anche di cosa mangiano e come si, luogo dove i nostri ragazzi possono naturalmente fare pranzo a mezzogiorno, a quelli che fanno il tempo continuato. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto alla prossima settimana al pranzo di Natale e però soprattutto continuate a conferire nel modo corretto i vostri rifiuti. Grazie e arrivederci al prossimo filmato.